... Solli Magu di Bacoli, buonasera da Giulio Alfano e benvenuti alla prima giornata della settima edizione del TAM, questa sera in campo Chalot Automobili contro Bar Roma, mettetevi comodi comincia lo spettacolo del TAM, il pallone inizia a rotolare in bocca al lupo alle due squadre e buon divertimento a voi, avanza a esposito Mary, gran controllo, ancora Mary sul primo palo trova il gol del vantaggio di Chalot Automobili, Usema Mary, 1-0 Lubrano, Ercole, sinistro, la traversa, poi Lubrano fuori invito, colpisce Lubrano il taglio esterno di Ercole, 2-0 Salot Automobili con Danilo Ercole Guardasone, Costigliola con il sinistro incrociato, a corso alle distanze del Bar Roma, Vito Costigliola, gran bel gol Costizione del Bar Roma, Festa, risponde alla grande Luzi Ercole, la riconquista Guardasone, che allarga per Festa e ancora Luzi su di lui Se acabò la primera mità, 2-1 per Chalot Automobili, partita molto equilibrata Guardasone Fermato Festa da Lubrano, poi Esposito, Mary, ancora Esposito, 3-1 Salot Automobili, segna Alessio Esposito Lubrano, Mary, il controllo, il piazzato Vicente, 4-1 Salot Automobili, doppietta Per Usema Mary Aspesta, la riconquista Ercole, che va in azione personale, ancora Ercole si oppone Ciotolo Con questo il pallone Esposito, che va da Lubrano, si propone Mary Palo In verticale c'è Invito, tutto solo Invito, 4-2 a corso del Bar Roma Dentro di Ercole, con i pugni ciotola, c'è spazio per Invito, che può involarsi un'altra volta E un'altra volta fa gol, sempre lui, Gianluca, Invito, 4-3, partita apertissima Lubrano, se ne va, Esposito, in surplus, Esposito, 5-3, doppietta anche per Alessio Esposito Stigliola, Invito, di prima intenzione, che senso del gol Da parte di Gianluca, Invito, tripletta per lui, 5-4 Se accavò il partito, finisse 5-4 per Salot Automobili, non basta, Invito al Bar Roma Grazie